ho un lavoro per te ti ricordi il grande hotel? quel buco guarda dal quale ti abbiamo tirato fuori devi tornare là si che me lo dai vai c'è un bel riposino ma se iniziamo a uccidere i nostri amici per pararci il culo non siamo meglio di Jacob non voglio prendere quella china ti dico cosa faremo invece Witty ha preparato un kit di deprogrammazione c'è ciò che si dice basta devi cambiare il nastro che stanno mandando nella stanza di Briggs con quello che ti do io poi vedremo che succede se tutto va bene il nostro tornerà con i piedi per terra se così non fosse non da cambiare codio c'è del mare c'è del mare c'è del mare ti avviso non ho telecamere lì dentro ricordi una volta che sei lì cambia il nastro e lascia che la deprogrammazione faccia il suo corso venì non fa casino ci sarà che è stato pazzi morite che c'è quello del mortaio ecco l'ho ucciso aia c'è pure uno con la mitagliatrice sto schiattato questo si inginocchierà il nostro cospetto mi colpo nel crani ma dobbiamo entrare che dobbiamo entrare mi sa dobbiamo entrare dobbiamo entrare sanzoccolo oh qui c'è un registratore qua c'è una chiave una chiave no ma non c'è chissà eh stavano sopra forse ma entro alle finestre tutto parasitico che vuoi fare non c'è una chiave non c'è questa ma dove va no dove va questa una volta ora i nostri eroi è in capito devoli malati ragazzi ragazzi che c'è il cavolo mannaggia ecco qua mi sa no ma cosa è una stanza brutto io cazzo ma non sembrano quelli i venditori col camioncino in calabria vediamo vino come era come era papà niente stanno qui moledetti stanno arrivando eh c'è com'è ma stavane moledetto senti fuori ci sono mortali e mitragliatrici un po' di creatività io un sacco di giocattoli pari ide non ne sta le montaglie stavolto non vedo niente rabbia vedo un cane col giudo beh arrivano non arrivando dal lago ah da dietro allora bisogna dietro aia 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 piatto oh oh ma oddio se tu non mi vedo scontato sii dietro sii dietro sii dietro di me sii ah merda a destra siamo giacchiti spara a caso forse mi vedo ce ne sono altri ancora ce ne sta qualcuno sulla destra ce ne sta qualcuno sulla sinistra io aia aia mi sanno uccidere porco schifo sii sulla destra sono tanti mannaggia 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 ma lì è spazio no dai dobbiamo rifare tutto mo sii beccato tutto ma lì mannaggia ce ne sono altri sulla sinistra destra che cacchio è quella disolvissimo ho porto la mila del rice eccola pure davanti l'elicottero or con le mani penso io . . . . Volevo . 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 to , del cecchino andiamo finito